Ragazzi, io ho già creato un nuovo club, i Gustavi Gamer, con già dentro Falco Rosso e, ovviamente... Non è Falco Rosso, è Falco Lupo Blu, quello da giuccio. Falco Blu e... Dani, ovviamente, Netplay, qui è Dani, restate tranquilli. Però ovviamente prima di iniziare col video, il Napisan porta fortuna nelle mani. Spalmiamo... No, lo vado a prendere anch'io, però... Eh, porta fortuna, porta fortuna. Alla, 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 alla... No, invece non la prendo perché fa schepa... Guardate, ragazzi, se sentite a battere le mani, è perché c'è il Napisan, vi faccio sentire pure il rumore. Ferro! Vai, vai. Spalmatevi... Ferro, mi sono pulito il Joypad con... Io no, Napisan nelle mani, spalmato per bene, supportare il creatore Steph2317... Steph2317, è l'item shop! Steph2317, e... No, lo devo mettere anch'io. Eh, io ho già messo, sono più bravo. Spingiamo pronto. Comunque, l'ho già detto, abbiamo già creato il club. I Gustavi Gamer sono alleato con Atar, cioè, nel club di Atar, cioè, quelli che sono più o meno nel club di Atar. No, io non voglio fare creativa! Ma che creativa? Chi è che me l'ha messa? Mi hai messo pronto! Io l'ho messo terzetto, buh. No, ancora creativa l'ho messo. Dov'è? Dov'è terzetto? È questo, no? Ferro, però se ce lo possiamo mettere tutti... Ah, non mi funziona un attimo. Fatemi provare l'ultima volta a mettere il terzetto, se no, dopo metto il capitano a qualcun altro. Ma c'è il terzetto? Mamma mia, Ferro! Ci sono, ci sono un terzetto! Ci siamo, ci siamo? Fate passare! Fate passare, che c'ho il gel napisane! Non ha fatto battere il flip. Oh, Ferro! Vai. Io ho già appena... Guarda, guarda, un attimo. Comunque ragazzi, io c'ho il belletto più raro al mondo. Cos'è? Ho stappato! Guarda, pure riesci a imparare qualcosa. Guarda, cosa ho? Un attimo. Un attimo. Ferro, spendi vibacchio e dopo vediamo cosa hai. Facci alla gara di chi ha il romo più bello. No, è vero che non è il 2F Abbo. No, no, 2F Abbo. Non mi piace niente i balletti, che ci sono 200. No, no, però c'è un balletto a 500 e l'incrociato, che è bellissimo. Ragazzi, quando esce Bacchetta Stella, me lo dite? No, dopo, dopo ti faccio vedere un balletto, che c'ho bellissimo. Raga, io per il mio compleanno c'ho per 80 euro, sì. Io dopo ragazzi, dopo io ragazzi vi faccio vedere un balletto che c'ho, che adesso però per sbaglio non ho messo, che dopo lo faccio vedere, ok? Ok, ok, va bene, tu. Big dance. Che è il più bello. Che fa l'io qui non so niente. No, invece ci abbiamo tutto. Ragazzi andiamo a Foschi, la città fortunata. Andiamo a Foschi e i fumaioli. E vabbè? Io non ci manco a Foschi. Allora andiamo a Cartoon Cut, a Cartoon Grill. No, non voglio Cartoon Cut. Non vuoi Cartoon Grill. Faccio vinta di essere un nato che c'ho un po' Toschi. Ah sì, guarda, dov'è che andiamo? A Cartoon Cut. Eh, Foschi, l'ho fingato io. Va bene? Va bene? Qua 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 qua. Nuove, con un caprisco. L'ho fingato, ma l'ho scritto. L'ho fingato, l'ho fingato lì. Adesso parlo così per tutto il video. Ok? Guarda, andiamo a Foschi. Mi piace come parlo. Mi piace come parlo. Beh, io parlo così per tutto il video. La voglia di far bene? Eh no, no, parlo così per tutto il video. Io mi sono mangiando le cuffie. No, ma perché io parlo così per tutto il video. Parco, ma dove stai andando? A fare il... Allora, so, 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 so. Mi dispuoccero. No, invece è parlo così per tutto il video. No, ma siete in bassissimo. Io sono sopra i posti. No, adesso è evidente. Parlo, ma lo so, ma per tutto il video. Beh, per me sei basso, eh. No, non sono basso. Tu sei basso. Io sono più alto. No, 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 che sono basso. Nella vita rara si sono basso. No, finalmente sono da solo. Ok. Prova, no, sei morito. Andrò via, stupidotto. Io, 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 infatti sono calato di, di, io sono calato di, di, come si chiama, di altezza. No, poi ti sei raggiungendo, chiare, anche se sono il più basso della classe ti raggiungerò. ma non è bella, che è, sono più basso, però comunque se non voglio che parlo così oppure che parlo ancora così ragazzi se volete che parlo ancora così, sei quella aiuto, aiuto, c'è il boss, c'è il boss più forte al mondo beh, ti sta bene, tu te ne sei andato sono oscurato, ma io volevo dire, se ti sta prendendo è perché te ne sei andato se non vieni entro 5 secondi, vengo a casa tua, ti porto qui il tuo joystick e ti porto qui da me ma non è vero, è poiché calmo, scusami oh, davvero lo faccio qua, però non mi sfida poiché, no, non ti apro la porta, cioè, perché non lo sapesse, si chiama la piscina ha messo una stranissima, quale ping, si chiama la finestra si chiama la piscina del combattimento, non l'hai vista ma è un bello qui, ho pure provatela, è carina no, 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 vi subito, venite, mi subito, mi subito un attimo, sto registrando, e ho fatto la scommessa, ho pagato qui per tutto il video un attimo, per l'esterno davvero devi andare? è troppo questa, è il mio vero comunque è, c'è, è il mio vero guarda, c'è il tuo guarda, dove sei, ping? a aiuta rima, c'è gente da me ma secondo te, noi che siamo sam flash che vengano lì in 3 secondi ma è vero e invece no, eh no invece sì, però ok hai trovato gli amici sbagliati e allora io sono creato non sono manco camminare davvero? ma la povera ma la che è la hue aiuto però arrivano i pro player su amici mi ha ucciso no io ho fatto la 97 qua c'è una macchina di 42 a 3 di vita qua c'è un altro problema ma che scordi quella safe non parliamo dove sia capo qua ma che adesso chiarello ovviamente deve evitare io non quitto per favore prendimi la scheda che vengo di nuovo lì lo prendi sta caccia di scheda ehm sono giovane Antonio l'uomo sta dentro la mia mano Antonio l'uomo mangia dentro la mia mano l'uomo l'uomo vai Gabriel anche tu canta lassù Antonio l'uomo 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 è la mattina per questo video posso concludere siamo a mattina di ventone e di me ciao ciao no 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 mi dì sotto ciao 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 e lasciate like ciao ciao ciao